Signore e signori, permettetemi di uscire rapidissimamente dal protocollo, ma solo per ricordare una grande milanese che è mancata stamattina presto, Inge Feltrinelli. Come tutti noi, grazie perché avete già interpretato il mio pensiero, perché conoscendo Inge, che sorrideva sempre, un minuto in silenzio avrebbe voluto questo applauso, è stata una milanese come quasi tutti noi adottata dalla città e ha dato il suo contributo alla nostra vita.